ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo lightburn oggi un video della serie e quindi della playlist primi passi perché primi passi perché oggi vado a spiegare con le nuove impostazioni di lightburn dal 1.7 che è una delle ultime versioni è cambiato qualcosa per cui vi faccio rivedere come si imposta un laser nuovo che ci è appena arrivato e che dobbiamo andare a far capire a lightburn come deve utilizzarlo allora era un video che avevo già fatto sono cambiate qualche impostazione di lightburn e preferisco rifarlo tutto in modo che i nuovi iscritti al canale portano a capire come poter andare a impostare correttamente il proprio laser su lightburn una volta che abbiamo alimentato il laser con l'alimentatore abbiamo collegato il laser con la porta usb al nostro computer e al laser appunto andiamo a vedere come impostarlo come farlo cercare allora solitamente la procedura la procedura che è guidata ma andiamo a vedere come può essere questa procedura quindi andiamo ad aprire da lightburn andiamo qui in periferiche ora io ho già altre qui diciamo che al primo laser non avrà nulla io ho già altri laser per cui qui ho alcune specifiche quindi vado in periferiche e vado a digitare trovo il mio laser clicco qua e poi do avanti lightburn va a vedere la diciamo la mia periferica se la trova e in questo caso come vedete non l'ha trovata non è raro che non la trovi alcune periferiche sono già pronte per essere utilizzate altre no però in questo caso cosa faccio e non mi resta altro che farlo a mano quindi faccio un cancel torno indietro vado a impostarlo di nuovo perché vado a creare manualmente crea manualmente il laser quindi faccio crea manualmente mi vengono offerte un certo numero di opzioni solitamente se stiamo utilizzando un laser a di odio di quelli e anche di ultima generazione dobbiamo andare a scegliere grbl vedete che ci sono più grbl ma io consiglio per quelli nuovi andare a prendere grbl perché sono l'ultima versione quelli con da 1.1 f in poi che ha la variabile della potenza m4 quindi vado a settare grbl faccio next e poi andrò a settare il collegamento allora se io utilizzo una porta seriale usb che la diciamo una cosa più semplice utilizzerò questa prima voce serie usb perché il mio laser è collegato alla computer tramite una usb ok next ora mi dice come la vuoi chiamare in questo caso io la chiamerò laser video per non andare a scombinarmi altri diciamo lo scriviamo meglio le maiuscole settate laser per video allora vi chiede qual è la lunghezza dell'asse di lavoro delle x e dell'y quant'è la mia area di lavoro solitamente fate attenzione e poi ve lo spiegherò dopo perché in molte case cosa dicono danno un'area di lavoro ma l'area di lavoro è lorda nel mio caso questo laser è un laser dato per 400 per 400 non è proprio così però diciamo che io all'inizio gli darò 400 per 400 mm come quello che mi dice la casa madre quindi 400 per 400 e do next poi mi dice dov'è lo 0x e 0y della tua macchina nella maggior parte delle macchine laser diodo quelle hobbistiche eccetera eccetera che scalpo un'auto ma stacca acmer eccetera e così via è in avanti cioè verso di noi e a sinistra cioè è in questo punto qua se questo è il piano di lavoro solitamente qua è già settato in avanti a sinistra do ok e quindi mi dice ok ho finito il tuo laser sarà un grbl collegamento serie usb e l'area di lavoro sarà 400 per 400 con quell'origine in quel posto premere fine per aggiungere nuova periferica faccio fine e poi faccio ok a questo punto io posso andare nel mio caso è un nuovo per video che questa e avrò la mia nuova un nuovo laser impostato allora adesso vi faccio vedere dov'è il laser e come faccio per andarlo a muovere quindi andiamo a vedere come muovere con il le frecce qui su vedete io lo muovo in questo modo lo muovo così nel mio caso il mio laser ha anche l'homing quindi ha tutto gli end stop eccetera eccetera quindi posso andare anche a dargli l'homing e andrà in basso a sinistra adesso che abbiamo portato il laser nella homing andiamo a vedere come andare a trovare il punto preciso del mio laser fin dove me lo posso spingere perché la mia area di lavoro non è 400 per 400 ma le ruote e i carrelli ingombrano leggermente e per cui andiamo a settarlo in maniera veramente precisa vi faccio vedere come utilizzando sempre la scheda sposta del lightbar e andiamo a vedere sul nostro laser come si sposta la ripresa l'ho fatta non è eccezionale perché devo piazzare una videocamera che mi riprende movimenti e non ho una videocamera tale che riesca a prendermi tutto perché naturalmente su questo laser non ho quella punta da sopra quindi andiamo a vedere ecco vedete che purtroppo non si vede molto molto bene però io vado a spostare in questo momento andiamo in ottieni posizione qui ottieni posizione vedete che c'è x 0 y 0 quindi è a 0 0 quindi è nel looming quindi nella parte in bassa a sinistra io lo vado a spostare nella distanza di 100 millimetri che lo vediamo qua verso l'alto e vedete che mi si sposta una volta due volte tre volte ecco ora siamo a ottieni posizione 0 x e 300 di y sono a 300 però se vedete io ho ancora un po' di spazio ma non ho non ho 100 10 10 centimetri ancora c'è non un po' di meno quindi cosa faccio io vado a cambiare questo dato invece di 100 ci metto 10 e andiamo a andrò a muovere il laser di 10 centimetri alla volta quindi scusate di 10 millimetri alla volta quindi lo sposto di più ancora 1 2 3 4 5 6 7 e ha toccato quindi a 370 ha toccato se io faccio vi faccio sentire vi faccio sentite cercate di sentire un attimo il rumore sentito? ha fatto un rumore forte perché pensa di andare indietro non ha spazio batte contro l'asse in fondo e mi va a sgranare le cinghie quindi devo ritornare indietro rifacciamo il looming lo riporto completamente a casa e poi gli dico posso mandarla anche dove voglio perché gli dico vai a e io gli dico 0 e 370 di y e vai lo facciamo andare andrà fin quasi in fondo e come sentite un pochettino di tocco l'ha fatto però 370 mi va bene se io riporto a 0 diciamo vai a 0 0 guardiamo se c'è spazio o meno e mi è ritornato giusto quindi vuol dire che questo nel senso diciamo dell'asse delle y non devo andare più di 370 ora lo porto ancora mettiamo a metà invece di 370 lo mettiamo a 150 non mi interessa 350 e lo mando su di 350 lo vedete va a 350 adesso voglio vedere quanto lo mando ancora più indietro che almeno lo vedete meglio sul video e lo mandiamo ancora un pochino più in su con le freccette così e poi lo sposto a destra guardiamo di quanto riesco a spostarla a destra partiamo sempre con 100 lo sposto di 100 a destra ci va 100 200 300 400 non ci va vado per 10 per 10 ok 10 sposto quindi abbiamo la posizione x310 x320 330 mi sposto leggermente la telecamera per farvelo vedere meglio ho spostato l'inquadratura così che possiate vedere meglio la cosa l'ho risposto di altri 10 e siamo a 340 350 360 370 ci siamo posso provare di millimetro in millimetro per vedere proprio andare a prendere proprio il pelino 370 370 371 72 73 74 76 e di più da 76 non va ok quindi cosa abbiamo appurato? che il nostro laser non è 400 per 400 ma è 370 per 376 370 sull'asse delle y e 376 sull'asse delle x quindi cosa vado? vado a cambiare i miei dati che avevo messo prima così fitiziamente 400 per 400 vado in modifica vado in impostazioni periferica vedete che qui io ho le cose che avevo messo prima quindi 400 per 400 quindi io larghezza avrò quindi praticamente l'asse delle x 376 e sull'asse delle delle y avrò 370 in questo modo sono sicuro che qualsiasi lavorazione che faccio eccetera eccetera Lightboard mi avvertirà se qualcosa va oltre quello spazio e come vedete anche qui nell'area di lavoro mi va a mettere i dati giusti quindi praticamente il mio laser me l'ha settato a circa 370 nell'asse delle y e 376 nell'asse delle x così abbiamo settato bene andiamo a vedere le settaggi della nuova scheda diciamo delle impostazioni quelli che consiglio io impostazioni una volta c'era un'unica scheda adesso Lightboard l'ha messo su addirittura 1, 2, 3, 4 schede quello che ci interessano noi sono le prime due anzi le prime tre e qui vediamo che la prima lasciatela come la vedete qui fatevi uno screenshot ve la tenete lì e ve la tenete tranquillamente in questo modo non c'è assolutamente problemi di usare questi settaggi Unit and Grid io solitamente ora c'avevo una un settaggio particolare perché stavo facendo una lavorazione molto fine la metterò a 10 e quindi praticamente ho questa griglia per poter agganciare eccetera eccetera le forme poi andiamo a rivederla per bene impostazioni periferiche scusate impostazioni non impostazioni periferiche sul display è interessante che li emettiate così quindi rendering riempito se volete vedere che quando ho fatto un riempimento ci sia il colore eccetera eccetera quindi l'anti-aliasing deve essere verde che almeno vedete i contorni per bene e non frastagliati e così via tutto il resto lo tenete in questo modo e non avete nessun problema import-export vabbè questo qui millimetri e anche questo lo lasciate così però non ci sono grosse problematiche mi raccomando laser a diode millimetri minuto ok quindi queste sono impostazioni vi rifaccio vedere in modo che abbiate il tempo di fare lo screenshot della questa pagina ok io preferisco ottenere queste impostazioni e le consiglio a tutti i neofiti del laser questa in questo modo fatevi lo screenshot mettetele così display fatevi lo screenshot mettetele così il resto lasciatele pure di default allora spero che sia gradito questo video specialmente a chi inizia quindi appena iniziate guardatevi questo video fate quello che ho detto e vi troverete bene ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video